Ciao, sono Valentina Vandilli, LinkedIn Expert, e oggi voglio farti una domanda. Tu pensi che il tuo profilo sia veramente adatto ad essere chiamato oppure ad attrarre clienti? Se sei veramente convinto, scrivimi il perché qui sotto. Ma prima vai a rivedere il tuo profilo e controlla tre aspetti. Il primo, se è rivolto alle persone giuste, quindi rivolto al giusto cliente, quello che tu vuoi, oppure al datore di lavoro che ti interessa. Se hai compilato tutti i campi e se hai aggiunto le competenze, le esperienze, tutti gli altri campi che possano far comprendere realmente che tipo di valore aggiunto tu puoi dare alle altre persone. Questo è tutto, se ti è piaciuto questo video commentalo qui sotto o clicca su consiglia. Ciao da Valentina. Ciao da Valentina.